Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara, Penne. 6 milioni di euro di fondi del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica per collegare le stazioni di Scio Vindoli, Monte Magnola e Campo Felice, ma è vietato per legge. Decreto del 2007 e pianificazione paesistica regionale impediscono senza se e senza ma tale intervento. Era denuncia fatta dalla stazione ornitologica abruzzese che in una nota afferma. La scheda progetto presentata dalla regione Abruzzo al Cipe per il finanziamento con 6 milioni di euro di fondi pubblici del cosiddetto collegamento tra i bacini scistici di Campo Felice e Ovindoli in Monte Magnola, così come consegnata e semplicemente contra legem, cioè contraria alla legge. Infatti, come è, o sarebbe meglio dire, sostiene la SOA, dovrebbe essere noto, dal 2007 è stato emanato il decreto ministeriale, 17 ottobre 2007, che all'articolo 5 impone, sempre secondo la stazione ornitologica abruzzese, il divieto per nuovi impianti di risalita a fune nelle zone di protezione speciale, se non già programmati nei piani approvati entro la data di entrata in vigore del decreto stesso, cioè il 6 novembre 2007. L'intera area tra i due bacini scistici è ricompresa nella zona di protezione speciale IT711-0130, Sirente-Velino. La cronaca stava molestando su un bus delle linee urbane di Pescara una ragazzina di 14 anni, figlia della sua ex compagna che aveva precedentemente molestato, e che la ragazzina si stava recando a scuola quando è stata fermata da un militare della Guardia di Finanza in forza alla compagnia di Pescara, il quale, libero dal servizio, è intervenuto fermando l'uomo e permettendo agli agenti della squadra volante di intervenire e bloccare un 53enne. È accaduto due mattine fa a Pescara quando l'uomo, residente nel Pescarese, ha minacciato la minore cercando di farla scendere dal mezzo con la forza. Solo la reazione immediata del conducente dell'autobus ha impedito all'uomo di portare a termine la sua azione. I poliziotti hanno poi rinvenuto addosso alla 53enne un coltello e appurato che l'uomo era aggravato da una misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, di divieto di avvicinamento alla madre della minore, sua ex compagna, essendosi già reso responsabile di atti persecutori e minacce nei suoi confronti. Il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, parlando delle pratiche legate alla ricostruzione pubblica e privata post-terremoto dell'Aquila che giacciono all'ufficio del genio civile del capoluogo regionale, ha detto che saranno evase in due mesi. Secondo una stima, sono oltre 500 le pratiche che saranno risolte grazie ad un organico rinforzato sin dai giorni scorsi. Firmato ieri l'atto di transazione tra Comune di Pescara, concessionario Consorzio Sapro e imprese esecutrice dei lavori Ati, capogruppo mandataria e le altre imprese coinvolte. L'accordo è relativo al componimento del contenzioso in corso da vari decenni sui lavori di realizzazione del Palazzo di Giustizia di Pescara. La transazione comporterà un risparmio di 2.602.012,64 euro per le finanze comunali. A questo vantaggio di non trascurabile entità, commenta il Comune, si aggiungerà l'accollo da parte del Consorzio Sapro e dell'Ati, questa associazione temporanea di imprese, relativa ai lavori di rifacimento dei rivestimenti esterni del Palazzo con la sostituzione delle attuali lastre, il cui distacco ha sinora precluso la possibilità di collaudare l'opera, conferendole la piena agibilità. Ieri a Pescara, in Consiglio Comunale, con i voti della maggioranza, sono state approvate due importanti delibere che fanno d'anticamera alla presentazione dei progetti esecutivi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comune ha già sottoscritto la Convenzione e, appena registrata la Corte dei Conti, decorreranno i 60 giorni di tempo per l'invio dei progetti esecutivi. Due passi importanti verso la realizzazione, illustra il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Antonio Blasioli, per la strada Pendolo in primis. La delibera ci consente, dice Blasioli, di completare la progettazione di una strada di cui si parla da decenni, che verrà realizzata in due lotti dell'importo complessivo di 5.275.000 euro e che taglierà come un pendolo pescara da via del circuito fino a via Riosparto. Ora, aggiunge, attenderemo la risposta definitiva dei privati e poi la registrazione della Convenzione delle Periferie alla Corte dei Conti. Avremo così 60 giorni per inviare i progetti approvati su cui stiamo già lavorando. Infine, si procederà con l'appalto dell'opera, auspichiamo prima di novembre 2018. Via Libera, sempre ieri, anche alla seconda delibera, che riguarda la realizzazione di 24 appartamenti per utenti con disabilità sotto le palazzine ATER di Via Caduti per Servizio, cioè le stesse palazzine per le quali oggi sono stati presentati lavori di igienizzazione messi in sicurezza dalle infiltrazioni. Progetto da 2.713.669 euro, che comprende anche la compartecipazione dell'ATER per 829.488 euro, che è la quota commisurata al valore della superficie. Si tratta di alloggi senza barriere architettoniche, che consentono anche l'eliminazione degli spazi sotto i palazzi, che minano decoro e sicurezza degli ambienti. Prosegue il percorso per iniziare i lavori antiallagamento sulle traverse del lungomare di Montesilvano. A pochi giorni dall'individuazione della ditta, che si occuperà degli interventi di adeguamento idraulico di Via Piemonte, è stata individuata anche quella che invece lavorerà su Via Emilia e sulle sue traverse. Si tratta di una ditta che si metterà al lavoro una volta completate le verifiche di rito per l'aggiudicazione definitiva. Anche in occasione delle elezioni politiche di domenica, il comune di Montesilvano fornirà il servizio di trasporto gratuito per gli elettori disabili. Domenica dunque, un mezzo della misericordia attrezzato e munito di pedana con elevatore per le carrozzelle garantirà il trasporto ai seggi elettorali per gli elettori con disabilità. Il trasporto verrà effettuato dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 21. Per usufruire del servizio bisogna telefonare all'ufficio disabili del comune di Montesilvano al numero 085 44 81364. Lo ripetiamo 085 44 81364 oppure al numero 085 44 81258. ripetiamo 085 44 81258. Nelle giornate di oggi dalle 9 alle 13, di domani dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e di domenica dalle 9 alle 18. Si ricorda che per gli elettori fisicamente impediti nella possibilità di esprimere autonomamente il proprio voto, cioè ciechi, amputati dalle mani o elettori affetti da paralisi, è garantito il voto assistito. A Montesilvano il servizio di rilascio delle certificazioni sanitarie per il voto assistito sarà garantito dalla ASL presso la sede della Guardia Medica di Via Inghilterra 20, che resterà aperta al pubblico anche domenica 4 marzo dalle 9 alle 21. In caso di presenza di barriere architettoniche, gli elettori che non deambulano, quindi che non possono camminare, possono però votare presso il loro seggio di riferimento in una sezione elettorale appositamente allestita a piano terra. Questo riguarda tutti gli elettori anche che deambulano, però non possono fare le scale e hanno un'invalidità importante. Tutti gli elettori sono invitati a verificare per tempo di essere in possesso della tessera elettorale e anche a verificare che al suo interno vi siano ancora spazi vuoti per il timbro del seggio. E dopo il successo avuto con Natale in famiglia andato in scena nella chiesa di Sant'Andrea Apostola a Pescara lo scorso dicembre, si propone alla città la rappresentazione delle 15 stazioni della Via Crucis con immagini dal vivo e lettura di brani della Bibbia, canti relativi al tempo di Quaresima. La parrocchia di Sant'Andrea darà vita alla rappresentazione della passione di Nostro Signore in diversi luoghi cittadini e di riferimento per la città di Pescara, come segue. Venerdì 2 marzo alle 19 nella chiesa Regina della Pace, venerdì 9 marzo sempre alle 19 nella chiesa di Sant'Antonio, venerdì 16 marzo alle ore 19 nella cattedrale di San Cetteo e venerdì 23 marzo ancora alle ore 19 nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo. Siamo alle previsioni del tempo, oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa nebbia al mattino, cielo molto nuvoloso nelle ore centrali e nel primo pomeriggio, sereno nel resto del pomeriggio e nelle prime ore della sera e molto nuvoloso in tarda serata con temperature da 4 a 11 gradi e venti da deboli a moderati e nelle zone interne pioggia al mattino, cielo coperto nelle ore centrali e nel primo pomeriggio, sereno nel resto del pomeriggio, poco nuvoloso nelle prime ore della sera e sereno in tarda serata con temperature da 3 a 10 gradi e venti da deboli a molto forti. Il mare è previsto da poco mosso a mosso. Ed era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, a voi tutti grazie per averci seguito. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Grazie a tutti.